Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Finalmente il video haul di Praga, che in realtà non è solo di Praga, siamo andati un po' in giro, abbiamo fatto un po' di shopping veramente ovunque, anzi in realtà a Praga abbiamo comprato ben poco, abbiamo preso più in aeroporto quando stavamo andando a Praga Ma finalmente ho questo mega super video haul gigantesco da farvi vedere, che è richiestissimo, richiestissimo, quindi finalmente vedrete E la maggior parte sono cosine che ho acquistato, ma ci sono anche un po' di cose che mi sono arrivate dalle aziende che ho inserito Quindi iniziamo subito, vi faccio vedere tutto, sono contenta anche perché finalmente potrò usare le cosine che vi faccio vedere, perché voi lo sapete Io prima di filmare un video haul lascio sempre tutto l'impacchettato perfetto e non voglio mai aprire, voglio tutto scartare in videocamera con voi Iniziamo con questo, che cosa andrete? Io direi di sì, questo acquisto l'ho fatto in aeroporto, andando verso Praga appunto, ma nell'aeroporto di Venezia Lo shopping all'aeroporto di Venezia non è mai maliccio, devo dire Forse alcune di voi potranno già indovinare di che cosa si tratta, non è una borsa, lo vedrete dalla scatola e un paio di scarpe E sono, allora dentro, vi faccio vedere quando l'ho aperta, questo è quello che c'era, cioè i lacci E poi qui il solito cartellino di Valentino e la dust bag Facchettiamo tutto insieme Ebbene sì, ve l'avevo detto che la mia collezione di sneakers sarebbe lievitata Lievitata, sì c'ho lievitata E avevo ragione, perché ho messo gli occhi su queste sneakers Che sono super popolari, non mi piacciono, un sacco E sono bianche in pelle, amo il profumo che hanno E hanno tutte queste borche che poi sono tipiche di Valentino Lungo la scarpa da entrambi i lati E la particolarità di queste scarpe mi spiegava la commessa Io non lo sapevo nemmeno, devo essere sincera Ho fatto finta, oh sì lo sapevo, non so, non ho idea E che sono tutte numerate, non ho ben capito perché Ma fatto sta che sono numerate evidentemente, fa più figo E questa è la suola, anche qui ci sono le borchie E devo dire che saranno almeno tipo 8 anni che io non indosso sneakers Ho preso le All Star, poi ho preso le Superstar Adidas E non lo so, mi è nata questa passione pazzesca E poi vedrete, ne ho preso un altro paio E' un periodo in cui mi piace indossare anche le sneakers Non solo scarpe più eleganti Certo che nelle occasioni così mi piace avere il tacco Però anche queste, devo dire, hanno il suo perché e le adoro Poi questo è un acquisto che ho fatto all'outlet di Sandonà di Piawe 90 Una roba del genere, si chiama Siamo andati con Tomas, lo scorso venerdì Sarebbe il suo compleanno e gli ho preso un paio di scarpe di Prada Che sono praticamente uguali alle mie sneakers di Valentino Però hanno il logo Prada rosso sulla linguetta E quindi mi piace perché abbiamo le scarpe molto simili Poi lui ha fatto altro shopping e io ho preso Allora, prima cosa sono andata da Calvin Klein Ed ho preso la classica felpa Semplicissima Ho preso una large che mi sta veramente grande Ma voglio che sia comoda Purtroppo non sono lunghissime Avrei preferito e anzi cercavo una felpa lunga da poter mettere con gli stivali alti O comunque una felpa lunga da indossare come vestito Non ce n'era nemmeno una Ma ho trovato questa Che ha il classico logo Non impazzisco per i loghi ma questa mi piace Questo invece mi è arrivato E si chiama Gisù 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 Non so pronunciarlo È un prodotto per capelli Che ha fatto una blogger olandese Tra l'altro C'è appunto questo Olio per capelli Con del miele Lei ha dei bellissimi capelli E dice che il miele è il suo segreto Quindi voglio assolutamente provare questo prodotto Anche il packaging Veramente Nicole Anche il packaging è molto carino Tornando da Praga Anche questo in aeroporto Perché a Praga dovete sapere Siamo stati nella via dello shopping eccetera Però allora Non c'era Chanel Qui già io mi sono trovata un po' così Perché volevo Però non c'era E almeno noi non l'abbiamo trovato Abbiamo fatto un giro In tutti i negozi eccetera Però non so perché Non abbiamo trovato niente di particolare Io sono alla ricerca di una borsa di Gucci Che però non trovo più da nessuna parte L'ho vista a Roma una volta E non l'ho presa E adesso non la ritrovo più E quindi nemmeno lì l'ho trovata Quindi alla fine non abbiamo preso niente Ho questi choker che continuano a girarsi Ma abbiamo fatto spesa in aeroporto E quindi ero alla ricerca di un paio di occhiali Che mi stesse decentemente Perché a me nessun occhiale sta decentemente Non sto scherzando Ne provo 100 E forse uno mi sta bene E gli altri 99 su di me Stanno malissimo Non so perché Alla fine però ho trovato un paio di occhiali Che mi sta bene E il marchio è di Gucci Se non sbaglio Ma non sono stata attenta al marchio Volevo solo un paio di occhiali Che mi stessero bene Non mi facessero sembrare una mosca Gli occhiali sono molto carini Adesso ve li faccio vedere Il problema è la scatola Che è la scatola più brutta Che io abbia mai visto nella mia vita Cioè è tipo di questo verde Non vorrei chiamarlo verde vomito È veramente orribile È fatta tipo in velluto Sembra la moquette di quelle case Degli anni 60-70 Avete presente È veramente orribile Però io pensavo Io pensavo che fosse la scatola del negozio Mi avevo dato la scatola Invece no È proprio una scatola di Gucci Andiamoci conto Forse dell'anteguerra Ma almeno se non altro Ho trovato l'unico paio di occhiali rotondi Che mi sta in modo decente Adesso non mi dite tutte Vi prego che mi stanno malissimo Però vi garantisco Che questi sono gli unici occhiali rotondi Che mi stanno decentemente E quindi li ho comprati subito Sempre in aeroporto Ho preso anche qualche cosina di Victoria's Secret Purtroppo non hanno mai i completi Quindi non si può mai acquistare reggiseni Negli aeroporti di Victoria's Secret Vorrei tanto che cambiassero questa policy E quindi non ho preso roba particolarmente figa Se non roba più comoda e più carina E quindi ho preso tipo degli slip Da notte praticamente Un altro paio con le conchigliette dietro E poi quest'altro paio Molto semplice Ah no in realtà In realtà non ne pensavo fosse semplice Non so se ho visto la parte dietro I beat death Ok E poi ho preso questi Che sinceramente non so come si chiamano Ma amo amo l'intimo di Victoria's Secret Perché è comodissimo Ed è di qualità Non perde colore Non perde forma Cioè L'odoro Poi mi sono arrivate Alcune cosine da Sigma E c'è anche un bellissimo biglietto E qui che cosa c'è Beauty delivery Hashtag Sigma beauty Vediamo che cosa c'è Ci sono alcuni libricini Con le foto dei loro prodotti C'è un baking and strobing brush set Un set di pennelli per il baking e lo strobing Voglio vedere che tipo di pennelli propongono Allora io per il baking ne uso soltanto uno Praticamente dello stesso versetto Quindi dovrei anche lavare Ok ce n'è uno con setole Quello siano sintetiche Poi c'è questo pennello a ventaglio Che aiuta poi a togliere la cipria O anche ad applicarla Poi c'è quest'altro pennello Che è tagliato Che strano questo pennello È tagliato così Ed è piatto Poi ce n'è un altro Anche questo è molto particolare Devo farmi uno studio Devo farmi una cultura Su come utilizzarli E poi c'è questo Che è più ampio Anche questo L'altro è un duo fibre Questo invece è a setole sintetiche Poi qui dentro c'è Allora che cosa c'è The Sigma Essential Face Brush Set Questo è un altro set di pennelli Essenziali per il viso Ce ne sono davvero davvero tanti Sono tutti duo fibre Sono vari pennelli per il viso Ci sono sia quelli un po' più piccolini Per andare ad applicare Magari l'illuminante O qualche prodotto in crema E poi ci sono quelli Un pochino più grossi Per blush Terra Magari anche fondotinta Questo piatto Lo usavo un tempo Per il fondotinta Devo dire la verità E mi trovo molto molto bene Prima di scoprire La Beauty Blender Questo che cos'è? Non so che cosa sia Non c'è scritto niente Misterioso Ci sono tre rossetti Credo Lip Eclipse In tre colorazioni All Kitten Rosette E Seal of Approval Beh devo dire che ci hanno azzeccato Perché mi hanno mandato tre nude E io Quasi sempre Uso nude A parte alcune occasioni In cui io magari un rosso Un colore un po' più scuro Ma Sono molto carini questi C'è un'altra cosina Qua dentro Ed è Credo Si tratta di una palette Anche qui ci hanno azzeccato Perché sono tutti colori nude Sono tutti su toni caldi Che sono quelli che preferisco Uso sempre aranci Marroni Aranciati Colori Che Fanno risultare gli occhi chiari E devo dire Sono molto molto carini Ce ne Ce ne sono un paio Brillantinati Questi due Questo è brillantinato Questo anche E questi due Sono Questo ha tipo dei glitter Gli altri sono shimmer Mentre tutti gli altri Sono opachi Vediamo la scrivenza com'è Devo dire che è super Veramente super Arriviamo a Gucci Sempre allo store All'outlet Allora Devo dire È difficile andare negli outlet Perché Molto spesso Tutto quello che voglio Non si trova Perché ovviamente Hanno la collezione Dell'anno scorso E O hai la fortuna Di capitare Nel giorno in cui Ci sono gli arrivi Oppure la maggior parte Della roba Se ne va Devo dire però Che sono stata Molto fortunata A trovare questi Eccoli qua Anche qui Un paio di scarpe E io ve l'ho detto Quelle scarpiere Che ho Non lo so Dovrò Cioè stringere Tutte le scarpe Per farne stare di più Perché la mia collezione Si sta allargando A vista d'occhio Li ho pagati Meno della metà Erano scontati Tipo al 60 55% Una roba del genere E adesso vi faccio vedere Non vedo Volevo di utilizzarli Tatara Tatara Si Sono i classici Mocassini Erano Gli ultimi L'ultimo Numero E' un 39 E mezzo Sono esattamente Come li volevo Il fatto di averli trovati Neri E' molto raro Perché Negli altri Si trovano più colori Un pochino Meno comuni Colori che Si vende Un pochino di meno E sono stata Stra 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 Fortunata A trovare I mocassini Neri Appunto Al quasi al 60% Quindi sono Molto molto felice Non vedo l'ora Di indossarli Poi mi è arrivato Un altro pacco Da Adesso non mi ricordo Che azienda L'ho aperto in velocità Ma poi mi sono detta No Non vado a scoprire Tutto perché voglio Farvi vedere Tutto in video Vi faccio vedere Molto carino Questo pacchetto E si chiama Nuva 1950 Vediamo che cosa Propongono Allora Una crema viso Triplazione Pelli normali e miste Un siero viso Lifting Grazie Pelli normali e miste Evidentemente Infatti sono anti età Evidentemente ho bisogno Delle creme anti età Non sto scherzando Se riuscissi Ad aprire Questo coso Ve la farei anche vedere Ma vi devo dire Che non è Impresa facile Forse l'altro Ce la faremo No Questo è il classico momento In cui ti si spezzano 60 unghie Anche se ne hai solo 10 Terribile Ok Forse qui ci siamo Forse Ok Ce l'ho fatta Con una forza sovraumana Ecco qui C'è la crema E spero e immagino Che il siero Abbia più o meno Lo stesso packaging Poi qui c'è un beauty case Ah E dentro ci sono campioncini Olio Un olio essenziale Poi qui ci sono Un sacco di campioncini Di Crema viso idratante Siero viso Acido di aluronico E crema viso Lifting Sempre allo stesso out Siamo stati da Moschino Di solito non mi fanno impazzire le cose di Moschino Sono un po' troppo esagerate Un po' troppo In your face Boom Per me Ma c'era la collezione Barbie Di due anni fa Io avrei preso tutto di quella collezione E purtroppo non avevano più niente Sarei dovuta passare l'anno scorso Avrei trovato un sacco di roba Mi ha detto il commesso Quindi Ma ho trovato comunque qualcosina interessante Allora la prima Io lo so Lo so Lo so È ridicola questa cover È veramente ridicola La volevo tanto questa E poi volevo la cover con Gennarino Quella in gomma Con l'orsetto Se avete presente Non c'era più purtroppo Ma ho trovato questa però E sono molto molto fortunata Perché era Oltre ad essere già scontata Perché tipo il negozio costava 50 60 euro Una roba del genere Io l'ho pagata 15 Poi un'altra cosa Che ho comprato Voi vi ricordate Sempre da moschino Vi ricordate la cintura che avevo Con la scritta Quella classica nera Con La scritta moschino dorata Ebbene Quella famosissima Io ce l'avevo Poi come ben sapete Mi sono entrati i ladri in casa Mi hanno rubato un sacco di roba Tra cui c'era anche quella cintura Quindi volevo ricomprarla L'ho trovata all'outlet Ma siccome Ultimamente Uso cinture Non proprio Sul Sul punto vita Ma Sotto il seno Praticamente se avete presente Cioè sopra ai fianchi Ho preso questa Che è Uguale Identica Ma è un pochino più piccolina Un pochino più sottile Quindi Ho voluto Fare questo Non lo so come si chiama Cioè Prendermi una Non una rivincita Ma riscattarmi su questa E ricomprarmela E quindi sono stata fortunata Perché l'ho trovata all'outlet Poi mi sono arrivate Anche alcune cosine Da intimissimi E vi faccio vedere Che cos'è A parte che i pacchetti Sono troppo troppo carini Alcune cosine Me le hanno spedute Sono le ultime novità Poi c'è questo completino Di questo bellissimo Blu Che io non so Ovviamente Come si chiami Questo colore Ma è tipo Un blu elettrico È fantastico Amo Amo I nuovi reggiseni Che hanno Sono super super sexy Con un sacco di pizzo Sono anche gli slip In combinato Poi Sempre della stessa linea È una novità C'è questo Che è un reggiseno Stile Vedo non vedo Molto bello Anche questo Sempre con gli slip In combinato Poi Altro pacchetto C'è Altro reggiseno Della nuova collezione Molto carino Che è questo Color carne Con questi dettagli Verde Fiocchetto Con qualche perlina E poi In coordinato Allora ci sono Sia gli slip Che è questa Camicia Da notte In seta Che io Adoro È morbidissima Vedete qua Stupenda Stupenda davvero E poi c'è quest'altra Questa è molto più sexy Molto più romantica Ed è appunto Sempre una No credo che l'altra fosse in cotone Credo che questa sia In seta Sì 100% seta Ed è nera Con questi ricami E con pizzo Sopra Molto 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 Da calzedonia Mi sono arrivati anche I jeans Strappati Con le calze a rete sotto Che vi ho fatto vedere In una foto su Instagram E adesso Sono sinceramente A lavare Quindi non ve li posso far vedere Ma poi Mi sono arrivati anche Questi jeans Fichissimi Che ho richiesto io Con tutte queste toppe Con tutte queste Applications Sono carini C'è anche la torre Eiffel Gelato Un cupcake Mi sono piaciuti tantissimo Queste Appena li ho visti sul sito E poi c'è anche Un altro paio di calze a rete Queste però Sono socks Quindi sono calzini All Immagino Alla caviglia Poi Altra cosa che ho ordinato Da puma Il problema è che devo restituirle Perché sono troppo grandi Certo Ho veramente sbagliato Appieno E ho preso Due cose Un capellino Questo ovviamente È un adresivo Questo ne va Non sono solita Indossare capellini Ma da quest'anno Mi stanno piacendo Un sacco Quindi voglio farmi Una bella collezione Di capellini Ah a proposito Se conoscete Qualche brand Che fa Dei bei capellini Eccetera Scrivetemelo Perché Per adesso ne ho uno Questo E poi Ho preso l'oro Ebbene sì Potete immaginare Di che cosa si tratta Perché vi ho detto Che vi sto fissando Con le sneakers Il problema È che ho sbagliato Il numero Sì Sono l'oro Le sneakers In velluto Con questo fiocco rosa Fantastico Cioè Io sono impazzita Quando le ho viste La prima volta Non ci potevo credere Hanno fatto delle scarpe Per me Cioè sono per me Queste sono esattamente I miei gusti In una scarpa Il problema È che io ho preso Allora Io sono andata a leggere online Ed ho trovato Tutti dicevano Che queste scarpe Pezzano piccole Di prendere Almeno un numero In più Allora siccome io Ho tipo il 40 Ho detto Boh prendo il 41 Sono una barca Mi stanno enormi Credo di dover Prendere il 39 Perché sono veramente Veramente gigantesche E adesso Devo rimandarle indietro E chiedere Il 39 L'ultima cosina Che vi faccio vedere Oggi È di Fendi Stessa cosa All'outlet C'è anche Il negozio Fendi E devo dire Che è quello Con roba più carina È quello più fornito Secondo me Ed ho preso Devo dire anche loro Molte borse Molte cose carine Ma siccome ho già Due borse Fendi E non Non sono alla ricerca Di una borsa Fendi In questo momento Però ho trovato questo Avevano un sacco Di bag charms Tra cui anche quello Che ho io A metà prezzo Quindi Un colpo al cuore Purtroppo Quindi adesso Se voglio prendere un bag charm Sì cosa vado all'outlet Ho trovato questo Che allora È un Anche questo è un bag charm Ma è anche una pochette Con una perlina E due brillantini Ovviamente l'ho presa rosa Ma ce n'erano un sacco All'interno c'è La tracolla Perché si può usare Anche appunto Semplicemente Come borsa Tuturu tuturu E ho intenzione Di usarla sia Come tracolla Che come bag charm Perché Si può togliere La tracolla Ed utilizzarlo Solo così Con questa catenina Da avvolgere Al manico Di un'altra borsa Ed usarla come bag charm Ed ho intenzione Di usarla In tutti e due i modi Quindi sì Ho preso anche questa Tutta tutta Quindi anche la mia collezione Di borse Io dico sempre Non devo più comprare borse Ne ho troppe Però poi finisco Per comprare Una borsa E quindi Questo credo davvero Sia tutto Vi ho fatto vedere Tutto Tutti gli ultimi acquisti Dell'ultimo periodo Spero vi sia piaciuto Questo video Come al solito Scrivetevi nei commenti Perché io rispondo Cerco di rispondere A tutti Oppure di dire Rispondo a tutti Poi magari uno Non rispondo Ecco non rispondo Quindi rispondo Sempre cose a tutti Ma leggo Tutti 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 i commenti Lascio sempre cuoricino Vi metto sempre like Vi metto sempre cuoricini E like Vi amo Siete grandi Quindi questo è tutto Per oggi Un bacio Non voglio mai salutarvi Ma devo Un bacio E alla prossima Ciao Ciao